Mantignano e Scandici al Ferrale, una azienda nell'azienda dove lavorano 120 addetti per la raccolta dei rifiuti prodotta dalle persone che si trovano in quarantena. Il sacco è quello rosso che ha suscitato qualche polemica perché farebbe individuare le famiglie positive, ma il diritto alla salute di tutti viene prima di quello della privacy. La tutela della salute e della salute collettiva ha chiaramente priorità in questo momento. L'ordinanza regionale è un'ordinanza volta a tenere separati i rifiuti prodotti dai quarantenati con dei servizi dedicati in tutta la loro filiera, cioè dalla produzione fino all'allontanamento finale. Sono raccolti come rifiuti urbani ma devono essere per i presidi sanitari tenuti separati da tutto il resto. Agli utenti viene consegnato un kit composto da un rotolo di sacchi rossi, guanti monouso e fascette per la chiusura. I rifiuti non devono essere differenziati ma gettati in un unico sacco. Il ritiro viene fatto in giorni diversi a seconda dei comuni, solo durante la notte. Basterà esporre i sacchi rossi alle 22 del giorno della raccolta. Questo ha fatto sì la necessità nel momento in cui appunto vengono esposti su strada che dovevano avere un riconoscimento rispetto alle altre esposizioni, quindi colori diversi da quelle delle raccolte differenziate. Le raccolte differenziate abbiamo i gialli, il verde, l'azzurro, i marroni, il nero, il rosa, i pannolini, quindi diciamo abbiamo già una vastità di colori, era necessario prendere un altro colore. Grazie a tutti.